Ben ritrovati amici telespettatori. E' stata una grande attesa quella che ha caratterizzato il momento conclusivo della cosiddetta COP28, questo incontro che si è svolto a Dubai per cercare di individuare delle soluzioni per ridurre l'inquinamento del pianeta, che a causa di questo inquinamento si va surriscaldando al punto che in prospettiva pare che ci debbano essere dei territori, sebbene di dimensioni limitate, che potrebbero addirittura scomparire perché sommersi dal mare. E allora cerchiamo di capire che cosa è successo. L'incontro si è chiuso nella giornata di mercoledì e quindi già giovedì i quotidiani cercavano di dare una sorta di linea finale. Dopo, come alla fine di un'operazione di matematica, si tira la linea e si cerca di capire che somma viene fuori. Ed ecco che, diciamo, le opinioni non sono tutte convergenti. Qualcuno, molti hanno parlato di accordo storico, ma sulla reale portata di questo accordo ci sono molti distinguo. Cominciamo con il quotidiano Il Corriere della Sera, che oggi titola, che oggi, che nella giornata di giovedì, titolava in prima pagina in posizione di spalle Coop 28 accordo storico per il clima, addio ai combustibili fossili entro il 2050. E l'incipit dell'articolo di Sara Gandolfi, sulla prima pagina del quotidiano milanese, è il seguente. Una svolta storica, arrivata nell'anno più caldo di sempre e in una petromonarchia come gli Emirati Arabi. Ieri a Dubai, ricordiamo che l'articolo, e quindi il Corriere della Sera è di giovedì, Ieri a Dubai è stata trovata un'intesa su un tema che da quasi 30 anni era ovvietà inespressa delle Coop, le conferenze delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Questo è appunto il significato di Coop. Per fermare il riscaldamento globale bisogna smettere di bruciare carbone, petrolio e gas, in modo da raggiungere le emissioni zero entro il 2050. Per la prima volta i combustibili fossili sono menzionati in un documento finale. Il testo è stato approvato all'unanimità. Quindi di storico c'è questo. Per la prima volta i combustibili fossili vengono nominati in un documento di una conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e poi c'è questo altro elemento dell'unanimità. Ma il quotidiano La Repubblica dà una sorta di valutazione differente da quella del Corriere della Sera, anche se non nella sostanza, ma con alcuni appunto distingo. Clima, l'accordo c'è, addio al petrolio, ma solo nel 2050. Questo è il titolo di apertura di Repubblica. E sempre in apertura leggiamo sotto il titolo. Nel giorno conclusivo di Coop 28 ci si aspettava una plenaria drammatica destinata a trascinarsi per ore con veti incrociati e posizioni inconciliabili. Invece il presidente del vertice climatico di Dubai, Sultan Al-Jaber, ha letto una breve formula, un nome in codice. Il primo bilancio globale delle politiche climatiche previsto dagli accordi di Parigi è approvato. C'è l'impegno dei governi del pianeta ad abbandonare i fossili nel 2050 e la transizione partirà da subito. Ancora una prima pagina, quella del quotidiano Avvenire, che riporta l'argomento attraverso il titolo di testata, che quindi è il titolo di maggiore evidenza, che cattura l'attenzione. Il titolo è, ecco qua c'è meno enfasi e c'è più prudenza, l'era della transizione. Occhiello, i dubbi e la rabbia dell'alleanza dei piccoli stati insulari che rischiano di venire sommersi. Il Mediterraneo salirà di 20 centimetri. E poi nel sommario, accordo storico alla Coop 28 per l'uscita graduale in modo giusto, ordinato ed equo dall'utilizzo di fonti fossili. Si unanime di 197 paesi ed Europa, spinta ad accelerare l'azione per azzerare le emissioni nette entro il 2050. Questo è dunque quello che abbiamo trovato nel titolo e poi sempre sulla prima pagina del quotidiano Avvenire, come sintesi di un lungo articolo di Lucia Capuzzi che troviamo nelle pagine interne, per la precisione nelle pagine 2 e 3. Leggiamo, dopo 31 anni, i combustibili fossili non sono più tabù nella diplomazia climatica. Per la prima volta la Coop si conclude con un documento che li cita direttamente e chiede alle parti di transitare verso l'abbandono. Una parafrasi di compromesso per aggirare l'espressione eliminazione considerata dall'Arabia Saudita alla guida delle petropotenze una linea rossa invalicabile. Il mandato politico per lo stop però è comunque forte. Oltretutto il testo indica un orizzonte temporale stringente per l'avvio della riconversione, l'attuale decennio. Un risultato fino all'ultimo inatteso anche per l'inedita mobilitazione dell'industria degli idrocarburi contro l'addio. A renderlo ancora più straordinario il fatto che il messaggio arrivi da Dubai, negli Emirati, uno dei dieci grandi produttori di petrolio. E questo scenario che ci viene descritto dalle prime pagine dei quotidiani acquista una sorta di maggiore definizione in un commento che sulla prima pagina del quotidiano Avvenire troviamo a cura di Leonardo Becchetti, ordinario di economia politica presso l'Università Tor Vergata di Roma. Il titolo che troviamo è l'uscita di sicurezza e poi nell'occhiello il grande passo avanti a Dubai. Leggiamo anche almeno l'inizio di questo commento. Il testo conclusivo della COP28 segna indubbiamente un passo in avanti, per molti aspetti un passo storico, nelle intenzioni di transizione energetica e contrasto all'emergenza climatica. Tutti i paesi del mondo, inclusi i petrolieri, ribadiscono l'importanza di restare sotto il grado e mezzo di aumento di temperatura, un risultato tutt'altro che scontato. Per farlo si impegnano a triplicare l'energia da fonti rinnovabili entro il 2030, ad accelerare gli sforzi per l'uscita del carbone e per l'uso di carburanti a emissioni zero o a basse emissioni. Nel testo c'è anche un impegno per l'eliminazione prima possibile dei sussidi alle fonti fossili e si citano in un'ottica di neutralità tecnologica anche il nucleare e la cattura della CO2 tra le strategie che, assieme allo sviluppo delle rinnovabili, possono portarci alla meta. Sul punto più delicato, quello delle fonti fossili, il compromesso tra chi voleva una menzione esplicita all'abbandono e chi si opponeva è stato trovato questo compromesso nell'espressione realizzare la transizione allondanandosi dalle fonti fossili in modo equo e ordinato. E ora, dopo aver passato in rassegna i quotidiani che nella giornata di venerdì hanno parlato in termini abbastanza enfatici dell'esito di COP28, noi cercheremo di fare un nostro approfondimento con l'ausilio di un esperto che sarà con noi nella seconda parte. Si tratta del professor Alessandro Ricci che è coordinatore del Centro Studi Geopolitica.info e che è anche docente di Geografia e Politica dell'Ambiente alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Tor Vergata di noi. Tor Vergata di Roma, restate con noi, era il noi che volevo dire prima, perché subito dopo la pubblicità ascolteremo le parole del nostro esperto. E come preannunciato poco prima della pubblicità siamo collegati con il professor Alessandro Ricci che è coordinatore del Centro Studi Geopolitica.info e che insegna Geografia e Politica dell'Ambiente alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Tor Vergata. Allora, professore, abbiamo visto nella prima parte che almeno i tre quotidiani che abbiamo preso in esame tutti e tre definiscono, chi in prima pagina, chi nei commenti, questo incontro e soprattutto l'esito di questo incontro come storico. Condivide questa opinione? Ma, diciamo, si tratta di dichiarazioni roboanti, tese a dare una piena legittimazione a questo ulteriore incontro tra le parti, a questa COP28 che si è svolta a Dubai. Ma in realtà decisione storica, si parla di una transition away dai combustibili fossili, dunque si tratta di un processo di media durata che dovrebbe portarci ad abbandonare progressivamente i combustibili fossili. Ora, se la decisione apparentemente è innovativa, apparentemente è nuovo l'ingresso di questo concetto, in realtà già nel contesto europeo lo conosciamo negli aspetti positivi ma anche in quelli negativi. Questa è stata una Kermesse, l'ennesima Kermesse che ha molti limiti evidenti, non solo nell'apparenza con la quale si è presentata agli occhi mondiali con costi esorbitanti, faraonici di organizzazione e un gran da farsi da parte di tutte le principali rappresentanze mondiali. Ma occorrerebbe chiedersi quanto effettivamente questi consessi internazionali abbiano una piena legittimità ad agire indicando una direzione che ha poi un impatto diretto sulle vite dei cittadini in simili consessi internazionali che forse al momento attuale rappresentano il vero snodo della globalizzazione, di una certa globalizzazione politica ed economica. In questo voglio sottolineare un aspetto che a mio avviso non è stato opportunamente messo in rilievo. molti dicono che non si è fatta abbastanza, le decisioni non sono state prese con una direzione netta, chiara. Io dico qualcosa di diverso. Mi chiedo se effettivamente in questi forum internazionali ci sia una piena capacità di rispondere, di avere una piena legittimità che viene definita tecnicamente di accountability, cioè di capacità di rispondere alla popolazione da parte di chi decide. Cioè c'è un superamento della logica nazionale che dovrebbe molto farci riflettere in virtù di una questione posta continuamente in termini emergenziali. Fino a qualche anno fa si trattava di un'emergenza relativa al global warming, al riscaldamento globale. Da qualche anno il riscaldamento globale si è trasformato in termini altrettanto emergenziali in global change, in climate change. È un concetto assai più generico e però poi le soluzioni che vengono indicate vanno sempre nella medesima direzione, cioè costi da attribuire ai cittadini. E qui c'è la domanda fondamentale. Chi paga questa transizione e chi ne risponde? Ma prima di arrivare all'attuazione realistica o meno di quanto ho deciso, mi piacerebbe capire anche questo documento che è stato sottoscritto, che per alcuni doveva essere un po' più incisivo, per altri comunque è un passo in avanti significativo. Ma questo documento quanto è vincolante? Perché da quello che mi è parso di capire leggendo i giornali non è un trattato internazionale, quindi non ha un impegno preciso nell'ambito degli Stati che comunque hanno espresso il loro orientamento. E quindi alla fine si riduce in una dichiarazione di intenti? Sì, è una dichiarazione di intenti, questo è vero. Si tratta come in altre occasioni di dichiarazioni piuttosto generiche che però indicano un indirizzo. È vero che non sono vincolanti fino in fondo e poi ci devono essere dei processi decisionali che devono avvenire sulla scala nazionale. Però quello su cui occorre riflettere è la direzione intrapresa proprio in questi consessi internazionali. E cioè una direzione decisionale, cioè una direzione strettamente politica che supera la logica nazionale e soprattutto la logica della rappresentanza nazionale. cioè il processo politico normale di rappresentanza e anche di responsabilità dei politici di fronte alla propria comunità nazionale è sostanzialmente invertito. Si tratta di una traiettoria ancora non pienamente sviluppata nelle sue piene potenzialità ma certamente deve farci riflettere e il fatto che l'Unione Europea abbia nella propria agenda politica comunitaria la tematica ambientale come fulcro di fatto cruciale economico, politico e sociale deve farci riflettere proprio su questa direzione intrapresa in senso sovranazionale che fa parte di un arco, di una globalizzazione che sempre di più si basa sull'emergenza e sulla crisi che sono di fatto veicolo per decisioni prese all'esterno dei confini nazionali. Prima diceva, anzi poneva una domanda giustissima chi paga questa transizione? Nell'articolo, nel commento che il suo collega, visto che insegna alla stessa università Leonardo Becchetti che insegna economia politica all'Università di Roma Tor Vergata evidenzia il fatto che per quanto riguarda i prezzi dei pannelli fotovoltaici questi stanno scendendo in maniera impressionante quasi al di là di ogni normale evoluzione dei prezzi così come stanno scendendo i costi delle batterie per le automobili questo dovrebbe rendere più competitivo il mercato delle auto elettriche rispetto a quelle alimentate con i combustibili tradizionali ma poi si pone il problema degli edifici del riscaldamento degli edifici e quindi alla fine diciamo che la strada è a metà una parte di questi costi lo dovrebbe assorbire il mercato attraverso l'evoluzione tecnologica e un'altra parte però dovrebbe essere a carico dei cittadini a meno che lo Stato non tiri fuori dal cilindro qualche altro eco bonus o super bonus beh ricordiamo intanto che i soldi tirati fuori dallo Stato sono soldi dei cittadini questo è un concetto chiave che spesso si dimentica le casse dello Stato non sono avulse dalle casse dei singoli individui e delle famiglie che compongono lo Stato in merito alle altre questioni all'abbassamento dei costi ma qui a me sembra tutto il contrario a me sembra che i costi delle auto elettriche risultino assolutamente fuori mercato tanto che il settore sta vivendo un momento di evidente crisi lampante proprio perché fuori dalla portata del portafogli di moltissime famiglie italiane tanto che una grandissima parte delle auto attualmente in circolazione sono auto a trazione a combustibile classico come le conosciamo normalmente in realtà Becchetti parlava in prospettiva dei prossimi anni come riduzione del costo delle batterie e di conseguenza del costo delle auto elettriche ma a me risulta a questo proposito che le ultime dichiarazioni proprio di vertici aziendali che producono auto elettriche sono dichiarazioni allarmanti cioè di una mancata recezione da parte del mercato di auto, almeno allo stato attuale, di auto elettriche che risultano ancora oggi davvero molto fuori dalla portata del portafoglio degli italiani e degli europei tanto che quella fetta di mercato fatica a decollare non solo per costi attualmente molto elevati ma anche per una efficacia nell'utilizzo che presenta ancora enormi limiti e anche in questo caso dobbiamo porci il problema ma davvero pensiamo di risolvere la questione ambientale ampiamente intesa introducendo nel mercato una nicchia di automobili che comunque vede una produzione che ha un impatto ambientale enorme non solo un impatto ambientale ma anche un impatto sociale molto forte su questo dovremmo veramente fare un ragionamento molto serio sui costi delle batterie a litio non solo in termini strettamente economici ma sui costi sociali sullo sfruttamento della mano d'opera in alcune regioni del mondo sugli interessi che questa produzione questo settore comporta e a mio avviso bisogna uscire da quel pantano di visione ideologica spesso polarizzata alla quale assistiamo pressoché quotidianamente sui media nazionali e internazionali uscendo fuori dal pantano delle posizioni ideologiche forse potremmo affrontare la transizione energetica e tutto ciò che comporta in maniera più serena ponderata e lucida soprattutto Riccardo Luna su Repubblica nell'evidenziare una delle incongruenze di COP28 da voce a Slow Food secondo cui l'agroecologia non è emersa come elemento chiave e potenziale soluzione per cambiare il sistema alimentare e combattere il cambiamento climatico pur essendo responsabili di circa un terzo delle emissioni di CO2 di anidride carbonica condivide? Ma io non condivido i termini catastrofistici e i termini diciamo sempre continuamente emergenziali perché l'emergenza ci porta ad allontanarci naturalmente dalla decisione lucida rispetto a certe questioni lo abbiamo visto anche nel più recente passato ritengo che non per forza si debba rivedere il nostro modo di stare al mondo di scibarci, di alimentarci e su questo credo occorra davvero riflettere seriamente in maniera molto molto approfondita tenendo presente che per quello che mi riguarda le contraddizioni sono altre rispetto alla COP28 e rispetto a quello che abbiamo visto in quella Kermess di cui stiamo parlando mi chiedo se quegli indirizzi intrapresi quelle decisioni vadano veramente nella direzione di un bene comune che viene posto al centro di questi consessi internazionali io ho sentito un bellissimo discorso da parte del re d'Inghilterra il re Carlo d'Inghilterra eppure un discorso tutto incentrato sul futuro del pianeta sulla sostenibilità concetti certamente nobili importanti un discorso che ruotava attorno al bene dell'umanità e del pianeta stesso ma io ricordo io ricordo che a marzo scorso il Parlamento inglese ha deciso l'invio in Ucraina di proiettili perforanti all'uranio impoverito che hanno non solo un impatto bellico evidente chiaro a tutti ma hanno anche un impatto ambientale devastante nelle zone colpite dall'uranio impoverito così come un altro aspetto fortemente contraddittorio è quello che riguarda i vertici europei la stessa Ursula von der Leyen ha sottolineato la portata storica della COP28 ha parlato proprio di risultati molto importanti raggiunti da questo consesso però anche in questo caso sono due anni che ascoltiamo discorsi di enorme incentivo alle azioni belliche in contrasto alla Russia con un impatto energetico evidentissimo con una impennata inflazionistica che riguarda proprio il comparto energetico aziendale e familiare e individuale enorme enorme e davvero in questo caso si guarda al bene dell'umanità ricordo che l'Unione Europea ha stanziato per l'invio delle armi in Ucraina 82 miliardi di euro io ecco inviterei chi ci sta guardando a riflettere su queste contraddizioni che a me paiono assai più evidenti e cogenti per finire ritiene che questa COP28 abbia segnato una consapevolezza mondiale di quello che il pianeta corre come rischio se non cambia la rotta oppure è solo il pannicello caldo per tenere buona l'opinione pubblica ma diciamo questo che probabilmente la COP28 ha cercato di mettere in rilievo ulteriormente il tema ambientale sulla scorta di una emergenza che viene definita tale dal punto di vista ambientale evocando sempre lo spettro di un pianeta che va a fuoco di un pianeta destinato all'autodistruzione in questo io inviterei alla calma alla riflessione allo studio alla approfondita analisi perché non sempre evocare gli spettri di un di un imminente scenario apocalittico può essere funzionale per la vita di ciascuno di noi ecco da questo punto di vista mi sentirei di evocare invece scenari di assai più ponderata riflessione e analisi perché sulla scorta dell'emergenza si decide sempre nella direzione sbagliata e spesso a discapito degli stessi cittadini queste conferenze forse vanno nella direzione di un di una governance globale che tende appunto a superare la dimensione nazionale e talvolta anche a incentivare l'emergenza al di là del bene della prospettiva di bene comune per i cittadini delle singole nazioni ecco grazie al professor Ricci per averci aiutato a comprendere il reale esito di COP28 e grazie anche a voi amici telespettatori per aver voluto condividere con noi questo approfondimento grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.